Dai Franco, eh! Buongiorno, signor maestro. Castaglie, bruciata. E dai, muoviti che parli! Sì, sì, venusimi! Ecco le belle marughe! Buongiorno, signor maestro. Oh, guarda, devi dire ai tuoi amici che di Colette che a scuola non se ne parla più. Sì, signor maestro. Mi dispiace. Scusa, ma volevo anche sapere com'è che va mio fratello qui Pierinco allo studio. Non è che sia stupido, lo studia poco. Insomma, non va tanto bene. Di alla mamma di stargli un po' dietro. Ciao. Tu devi studiare, studiare! Non mi piace! Non voglio andare a scuola! Io voglio andare in fabbrica! Come te! Tu devi prendere il diploma, hai capito? Piuttosto di farti fare come me, io ti ammazzo! Sofio! 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 Grazie a tutti.